Alcune strade di Pagani, anche del centro, continuano ad essere sporche tra l'incuria dei cittadini e lo stallo dell'amministrazione tenuta in pugno dal consorzio di Bacino Salerno 1. Nei giorni scorsi, con una delibera apposita, il dirigente del settore tutela ambientale Alfredo Amendola ha ridotto il canone di pagamento al consorzio da 300.000 a 290.000 euro perché ha riscontrato una serie di inadempienze da parte del consorzio, in particolare per il mancato ritiro degli ingombranti dalle strade e lo svuotamento delle campane per la raccolta del vetro. In effetti per come si presenta la città in questi giorni in diversi punti è lampante come la raccolta dei rifiuti venga gestita in malo modo. A via Sportelli, nei pressi dello stadio, delle buste sono state lasciate praticamente sul manto stradale. A via Romana invece, alle spalle della tenenza dei carabinieri, dei cestini in plastica sono stati abbandonati sul ciglio della strada. Per non parlare di via Trento, a due passi dalle scuole elementari e medie, dove sono stati riposti su un marciapiede ben 13 pneumatici di diversa grandezza. Su quest'ultimo caso stanno indagando gli uomini della polizia locale, anche perché si tratta di un vero e proprio reato penale. Così invece si presentava qualche giorno fa via Criscuolo all'ingresso di un'area di parcheggio che sarà riqualificata, anche perché il problema dell'incuria e dei rifiuti riguarda in particolare piazzette e villette, tra cui la villa comunale. Il consorzio non è tenuto a svolgere questo tipo di mansione che il comune sta pensando di affidare ai privati. È stata già attivata infatti una procedura per l'affidamento del servizio in economia mediante cottimo fiduciario impegnando la cifra di 36.000 euro.